John Borno ragazzi, John Borno, oggi è sabato, ieri è giocato la Juventus, purtroppo non sono riuscito a fare il post partita perché non ero a casa, ho detto vabbè lo faccio domattina, poi stamattina ho avuto un po' di cose da fare, alla fine ecco qua che lo faccio il pomeriggio, però alla fine penso cambi veramente poco, se siete interessati a sapere quello che ne penso io, che io lo dica ieri sera o che io lo dica il giorno dopo, penso cambi veramente poco, magari perdo un po' quelle visualizzazioni per effetto immediato del post partita, però ci tenevo comunque a portarvelo. Allora, la Juventus, la Juventus B, ara l'Udinese per 4 a 1, Juventus che non accusa mai nessun tipo di colpo, un Udinese che viene arato in tutto e per tutto, una Juventus che è propositiva, che trova i primi due gol con Ken ragazzi, tra l'altro Ken un gran bel giocatore, tra l'altro ha fatto uno stop di Cristo, ha fatto uno stop veramente di Cristo, ma al di là di quello stop comunque fai due gol, i primi due gol della partita, da attaccanti vero, tra cui il secondo di punta sull'errore di Fofanà, Anche lì io dico, no ma Fofanà mio, ma stai giocando contro la Juventus, diciamo che se tu fai, su 4 errori che fai, 3 volte la Juventus ti fa gol, ma come vai a fare quell'errore lì? Comunque al di là di questo, è bravissimo Ken è lì a buttarla dentro di punta, Ken ragazzi è un gran bel giocatore, gli va dato spazio e gli va dato tempo, gli è stata data l'opportunità di mettersi in mostra, contro l'Udinese in casa, E l'ha ampiamente sfruttata, tra l'altro, io vi dico la verità, non mi aspettavo una Juventus così, perché quando ho visto la formazione con Alessandro 3, 3 d'attacco, senza Di Bala, senza Cristiano Ronaldo, Ho detto, senza Boruccio, ho detto, secondo me la Juventus oggi fatica, vince perché vince, però fatica, magari la tiene tutto il tempo solo 1-0, a 20-25 minuti alla fine mette Ronaldo, E poi, anche senza il gol di Ronaldo insieme, magari la decide Di Bala, che tra l'altro io avrei messo, perché ok che vuoi fare turno per l'Atletico, lo capisco, però è super in forma, In questo momento, secondo me, ragazzi, non si può fare a meno di Di Bala, ma non per la Juventus in sé, perché l'altro si è fatto a meno di Di Bala e ha vinto, ok? Però parlo proprio di Di Bala, cioè in questo momento Di Bala ha bisogno di giocare, ha bisogno di fare gol, ha bisogno di fare assist, ha bisogno di sentire l'odore del campo, direttamente dal campo, Perché lo vedo in ripresa, vedo che sta riprendendo fiducia nei propri mezzi, e quindi io l'avrei messo, al di là di questo, fa una doppietta Ken, segna Emre Can, segna Matuidi, Mi dispiace un sacco per Barzagli, che si è infortunato, raga, Barzagli purtroppo, purtroppo è verso fine carriera, ovviamente è sempre brutto ammetterlo, E difficilmente lo ammetterà se stesso in un modo rapido, in un tempo rapido, però ragazzi, è a fine carriera Barzagli, in questo momento non gliela fa, cioè parliamoci chiaro, Gioca poco, perché comunque non è a livello di quegli altri, quando gioca o si fa male, o comunque è indietro, mi dispiace perché Barzagli per me è un signor difensore centrale, Lo è sempre stato, e vederlo così, un po' come tutti poi, perché comunque arriviamo tutti a quell'età, cioè parlo di calciatori, arrivano tutti a quell'età, Dove stai per finire, tranne Guagliarella, lui non finisce mai, però che stai per finire si vede, c'è anche l'ultimo Totti, che comunque spesso era decisivo, Non era quello dei due anni prima, parliamoci chiaro, quindi vedere così Barzagli un po' mi fa male, Juventus che comunque distrugge l'Udinese, altri tre punti importanti, più 19 rispetto al Napoli, aspettando che il Napoli giochi, Regà, ormai i giochi sono chiusi, parliamoci chiaro, Allegri, a Viso ha detto, se la Juve non vince la Champions, cioè se la Juve esce dalla Champions sull'Atletico non è un fallimento, sì, è un fallimento, cioè io penso che i diffusi da Juventus siano d'accordo con me, sì, è un fallimento, in questo momento vedere la Juventus, che esce agli ottavi di Champions, se vince lo Scudetto è un po' come dire, vedere il Napoli che ora esce al prossimo turno d'Europa League contro il Salzburgo, in rimonta, perde magari 4-1, no 4-1 passa, vabbè ormai è passato il Napoli, però vinto 3-0 ha vinto, ormai è passato, vabbè il Napoli che ha i quarti di finale, esce dall'Europa League magari contro un Villareal e poi arriva in Champions, cioè tu hai ottenuto quello che ottieni sempre, è vero che per la Juventus si tratta di un trofeo, punto fa magari muotanno a me, però vince lo Scudetto per la Juventus è quasi la prassi, cioè parliamoci chiaro, per la Juventus vince lo Scudetto è la normalità, deve vincere lo Scudetto, perché è quello che fa da 6 anni, 7 anni, quanto cazzo, 8 anni, quanto cazzo è che vabbè, dà una vita, dà una vita e vince il Scudetto la Juventus, e diciamo che è sempre la favorita, parte sempre con un piede davanti, è uscito agli ottavi di Champions, dove è uscito tra l'altro ai quarti di finale di Coppa Italia, è un fallimento a mio modo di vedere, fatemi sapere comunque una volta su un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi è piaciuto in video di lasciare un mi piace, in caso contrario non dislike, grazie per aver visto questo video, buon ce l'ha all'allene come sempre, ci vediamo in un prossimo video!